Un trentenne extracomunitario ieri in tarda mattinata ha rubato una bicicletta parcheggiata in via Mura Malatestiane, proprio di fronte al comando della polizia locale. La bicicletta, di proprietà di un ultraottantenne fanese, che si era proprio recata al comando, era stata inavvertitamente lasciata in custodita per qualche minuto e l'uomo, non trovandola al suo ritorno, si è subito recato ai vigili per la denuncia. Ma la fuga del ladro è durata molto poco. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Annarita Montagna e coordinati dall'assessore Cucchiarini, grazie all'ausilio delle telecamere, hanno individuato il ladro e lo hanno raggiunto poco dopo nei pressi di via Malvezzi. Lì l'uomo, la cui ultima domiciliazione è risultata poi essere Porto San Giorgio, si è scagliato contro gli agenti e ha fatto resistenza, tanto che i vigili sono stati costretti a chiedere il supporto della polizia di Stato, che ha inviato una volante sul posto. Il trentenne è stato quindi portato in commissariato per l'identificazione ed è stato messo in stato di fermo. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, questa mattina è stato processato per direttissima dal giudice, che ha emesso nei suoi confronti la sentenza di otto mesi di reclusione, con pena sospesa. Sempre questa mattina e sempre grazie all'uso delle telecamere, gli agenti della polizia locale hanno individuato un uomo che in viale Gramsci, direzione nord, nei pressi del Pincio, si è reso protagonista di un incidente autonomo, nel quale ha divelto i cartelli stradali. L'uomo è stato identificato e chiamato ora al risarcimento dei danni procurati. Sempre nella giornata di ieri è stato anche identificato l'uomo che nella notte del 1 gennaio scorso aveva violentemente urtato e danneggiato un'auto parcheggiata in via Fabri, causando danni ingenti al veicolo e lasciando vari pezzi di carrozzerie sull'asfalto. Grazie alle meticolose ricerche presso meccanici e carrozzieri della zona, gli agenti hanno ritrovato l'Opel Zafira, di proprietà dell'autore dell'incidente, che oltre a vedersi ora decurtati quattro punti dalla patente, dovrà pagare la somma totale di 595 euro per aver violato l'articolo 189 del Codice della Strada, fuga dopo incidente con danni e accose, ed anche al regolamento comunale sui rifiuti, per l'occasione abbandono sul suolo pubblico di rifiuti speciali.